Il Governo ha prorogato fino al 2024 il mandato di Guido Castelli come commissario straordinario per il sisma 2016. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri sul suggerimento della Premier, Giorgia Meloni. Castelli quindi continuerà a occuparsi della riparazione, della ricostruzione, del sostegno alla popolazione e della ripartenza economica delle aree colpite dal terremoto nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Una notizia quella della riconferma di Castelli accolta in maniera favorevole anche dal sindaco di Teramo nonché presidente del Lanciabruzzo, Gian Guido D'Alberto. Una conferma importante perché nel corso di questo anno abbiamo lavorato bene, abbiamo portato avanti un percorso che era iniziato negli anni precedenti col commissario Legnini e il commissario Castelli ha avuto l'intelligenza, la forza, la capacità appunto di proseguire lungo questa scia, di affrontare le nuove questioni che sono emerse e soprattutto di avere sempre un rapporto di piena e ampia collaborazione con i sindaci e con il territorio. Quindi anche in questo 2024 proseguiremo in questa direzione, lo dico ovviamente non solo come sindaco di Teramo e referente dell'Anciabruzzo ma anche come coordinatore delle quattro Anci regionali per il sisma. Quindi un nuovo in bocca al lupo al commissario Castelli perché lavorare insieme ci consentirà di raggiungere gli obiettivi alti, importanti che ci siamo posti e con il commissario Castelli spingeremo affinché il governo mantenga sempre alta l'attenzione sul cratere sismico del centro Italia che resti una priorità nell'agenda di governo. Dello stesso parere anche il sindaco di Campri, Federico Agostinelli. Intanto la continuità con il lavoro iniziato lo scorso anno, la conferma di una persona preparata che è a capo della ricostruzione, che sa dialogare con i presidenti di regione, con i sindaci e che è a conoscenza di quelle che sono le problematiche, le risorse dei territori colpiti dal sisma. C'è stato un aumento importante dei fondi che sono arrivati nel corso del 2023, tanti altri dovranno arrivare nel 2024, dovremo ricostruire scuole, palazzi civici, cimiteri ma anche tante altre cose che rientrano nella ricostruzione. Verrà il 9 febbraio, mi hanno confermato proprio questa mattina, quindi avremo modo di ospitarlo nei prossimi giorni e di condividere con lui quello che è il percorso del nostro comune e non solo. Grazie.